Ancora, 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 eccolo qua, eccolo qua, eccolo qua, eccolo qua, sentite, sentite, permetti via la voce. Pronto? Sono sotto al terrazzino, ora salgo. Bene, intanto che sei sotto al terrazzino, fammi un bel bocchino. Sono sotto al terrazzino, ora salgo. Sono sotto al terrazzino. Tu madre, troia. Sotto al terrazzino. Ma roba, tu, mi vorrei che, tipo, ma ti immagini tipo un serial killer? Sì, ma lo posso chiare, serial killer? Immagini tipo, è solamente un serial killer. Ma ti immagini tipo... Una volta? Real killer. Ma ti immagini tipo... Ho scelto tu, 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 lo giuro. Vieni come al mercolato. Lo giuro, eh. No, voglio. No, voglio. Voglio, devi prendere una cosa, lo giuro. Big arm's stolen. Non è la pistola, è il selfie stick. Qualcennun? È la pistola. Ma lo devi succhiare, l'minugnoia. Ma non c'è un paio che si vuole andare a stare. Lo sapevo che Carlo mi diceva a far vedere, ma con io ho messo la piazza, madonna troia a giocare. Ma non c'è un paio che si vuole, ma non c'è un paio che si vuole, ma non c'è un paio che si vuole. Ma non c'è un paio che si vuole, ma non c'è un paio che si vuole. 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 per prenderci la nostra vendetta c'è stato però a parte di schizzi può mettere lo stavano arriva le telefonate sconosciute già non sappiamo come vengono i nostri numeri 12 arriventi presco che so dove state con la voce robotica su dove state sto fuori al terrazzino calza cadere in moderna sino quindi così manco due minuti non bussano vicino alla porta si sente sbattere la nostra volta la nostra volta io ho sentito come ha visto la piste sulle con una faccata cosa chiamando sta chiamando sto chiamando stasera giochiamo insieme con macchina e motorino e tua madre anche ma chi sei cosa vuoi io vuoi un marzo ma io tu ti stai chiamando oh io vado a casa voglio provare a nola e conti pronto pronto cazzo fatta il numero di mirko voglio pure il solo numero sconosciuto quanto vuoi lo c'è brilie no ma io c'è brilie non sto scherzando c'è i numeri in comune di tutti e quattro pronto scegliamo ma non può essere per esempio pensa pure che è un che è stato l'arrivo mette la mano a vero su qualsiasi poi pensa pure che è stato da diciamo ma se tattino come faccio più avvicinato stai attiva con ventaglia la gola ma napoli e che sta qua siamo a due ma io non posso io poi sei fermo questo serial killer de merda ma quello tra un leo cazzo voglio c'è l'issima che non mi dici qua che voleva chiamare scusa perché però va bene non può essere la mia chiamandone quando io mi chiamiamo mister no non chiamai nudi e non è non ne voglio migliorare sono penalizzato se è una cosa organizzata a me mani eccolo eccolo mettiamo la voce la voce ma è mio ma chi si ma esco oggi vedremo faccio c'è Gesù non lascio tutto ma vedi ma faccio te 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 ho ma ho ho cosa ha mano v v con m v s te Grazie. Allora facciamo una cosa, ascoltatemi, tutti quelli che stanno in live ascoltatemi, seriamente, io mi esco, se succede qualcosa uno di voi corre qua e dà l'indirizzo esatto della casa in live, sono 4 mila persone, chiamano la polizia subito. Va bene, allora io sto qui. Anche io sto qui, non mi ero arrivato, non mi ero arrivato, mi ero arrivato, mi ero arrivato dalla via e tu mi ero arrivato a 5. Va bene. No, veramente, raga, non la posso portare alla cam, ma devo dire che se erano un troll organizzato, non tenivano la cam che aveva portato fino alla, si deve rendere organizzato troll. Ma io c'è uno che c'è, ma come fatti? Non ne ando, mi ha chiamato senza la voce. No, mi faccio detto, non ne andiamo, ah io non mi hai lasci conosciuto. Non l'ho mai sentito. Ma io non mi hai lasci conosciuto. Oh, oh, vai, io faccio. Pronto? Paura è tranquilli. Tranquilli? Paura è tranquilli. Paura è tranquilli. Ma io andavo, perché non è possibile? Ma io andavo, perché non è possibile. ma io amico io non so pazienza e un mino per noi no 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 se succede qualcosa da me se urlo se succede qualcosa non sto scherzando la prima cosa dovete dire dirvi il numero aspettate ha finito per favore una cosa è che voleva se la ragazza che tu hai baciato al comico le disse io ti troverò toni almeno prendigli scendini pronto ma chi si chi sei ma che esce fuori più maligia siccome direi numeri e che cosa parla come hai il mio numero ma chi cazzo sei il kite numero privato che ti ha carito non esce il caffo no ma che nasci no marito adesso che sta ritardato ma non è una voce che conosco però la fama eccola da sicuro mi stai guardando figlio di puttana di merda chiamami nata vota si viene paolo per bussa si viene paolo fammi rega sito questa è caffora bussa si viene paolo ma c'è ci chiamo